La mia storia comincia quando una bambina raccoglie una foglia ormai ingiallita ai piedi di un albero. Quella foglia si chiama bandiera. La bambina e i suoi compagni hanno scritto una storia fantastica. La storia di una foglia attaccata a ramo. La storia di una foglia attaccata a ramo. La storia di una foglia attaccata a ramo. La storia di una foglia attaccata a ramo.